ebbene amici fratelli della congrega non c'è due senza tre quindi la mia prima avventura da critico cinematografico accreditato la seconda avventura l'anno scorso hanno difficoltoso ostico il cinema fu adombrato noi fummo oscurati adesso stiamo pian piano respirando nuovamente l'aria terza pulita di queste giornate dopo che ci bernarono un po dal covid liberate anche se non ne siamo del tutto fuori quindi non pavoneggiamoci troppo cambierà la fototessera poteva rimanere identica quella dell'anno scorso ma ho chiesto di cambiarla devo ricevere anche un aggiornamento tramite mail io sono un abituai del festival adesso in veste di smoking mi presenterò in maglietta anche perché fa caldo uomo rigenerato uomo rinvigorito e sarò ubicato nello stesso albergo in cui avvenne qualcosa di magico di profondamente miracoloso messaggio una mia foto vista intravista ad occhiata da una donna che mi ha amato mi amerà e l'amer del lido e basta con l'amaro e con l'amareggiarsi vince joker ci sono molte verità nascoste della mia vita anche il fatto di aver fotografato harrison ford leonneson nella presenza di un'altra bellissima donna la mia lei katherine bigelov fisico slanciato donna con le palle durante la premiera la prima non so se fosse l'anteprima mondiale anche il festival di toronto c'era già di k 19 il film meno amato di katherine ma chi non può amare a a proposito di mare alte maree saliscendi emozionali monsta michelle michelle ma belli beatles no paul mccarney yocono john lennon ringo star harrison michelle pfeiffer io l'ho vista dal fifa un sorriso florido un omaggio floreale vi fu da parte delle sue fan perché le donne non essere per forza lesbiche per adorare michelle è un'icona della sensualità femminile purtroppo riuscì a beccarla soltanto così giochi di rifrangenze e questo suo splendido marmoreo scultoreo uomo no di dietro entusiasmante lei sempre brillante sempre raggiante radiosa solare nonostante fu fotografata in una passerò passerella serale la reason ford un po in carta pecorito precocemente invecchiato le verità nascoste roberts e maxi adesso sta girando ha terminato l'impresa di diana jones 5 questa rs sembra più mio nonno entrambi i miei nonni sono deceduti purtroppo vedete già cammina va nella posa da boomer con le mani no uomo d'antonio d'antonio no no vedete garrison e lui o non è lui potrete vedere le atmosfere no le foto non così traslucide se accetterete di venire casa mia atmosfere suggestione cinema l'anguido cinema increspato di emozioni liquide come le onde del mio percorso era appunto un divago tormentato frastagliato sommerso dalla malinconia che poi attraccò a un porto cheto felice e di nuovo di vita illuminata e non più offuscata apacizzata ripeto dal covid no da notti manicomiali cimiteriali di me sepolto vivo uomo sepolcrale rinato 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 però qui abbiamo queste che palle due belle donne questa simpatica come ecco e questa non so chi sia però non si vede bene c'è scritto west e no western ecco però chissà forse qualche produttore qui anna praterio immancabile lei e mollica mollica magnificano sempre i film qui larry clark regista controcorrente lui controcorrente marina oceanica marina ripa di meana e questo è un attore che è morto presente anche i sleepers di barry laminson purtroppo per overdose brad ramford ma io conosco tutti assomiglia anche un po quel culone fatto culatone di stefendorf sofia coppola vinse assieme a lui con sambo io da qualche parte starò a dormire io me la dormì e questa è un'inquadratura splendida oserei dire cos'è chi è questa qui non lo so ma le caviglie le sue gambe vellutate superbe e qui taylor ecco regista l'avvocato del diavolo dell'inedito da noi the comedian e anche dell'ultima eclissi sbadiglia a proposito delle dormite lui è taylor ecco anche se non si vede bene così e lo so che voi donne hey to mama tambien fonso cuaron fu molto acclamato io ero un fan di maribel verdù guardatela quindi bigas luna andiamo a confondere con diego luna con gael garcia bernal sono loro sì che sono loro anche se non si vedono bene acclamato ma non vinse vinse poi con roma fin comunque contestato ecco non si vedono bene ma io ho visto anche gillo pontecorvo nicolas cage ma ci sono altre foto bad lieutenant colon new orleans giro pontecorvo anche nicolas cage del genio della truffa presente a venezia questa invece è una matrona milfona oh sono bene con le bocce dei fori ma ci vorrebbe carlo verdone a prendere un po per il culo e lo so che voi donne volevate essere nei panni di amberhard no no perché adesso ecco però ecco questo qua chi è david grieco ecco cosa fa si slaccia la patta sempre un grande regista al suo fianco nanni moretti nanni moretti che non va con un amoretti ma qui affiangato da dall'attrice di almodovar quella di didi e non è quella tutto su mia madre nanni 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 e lui è nanni e qui ecco c'è lo record il pregiato fondo schiena prelibato di quest'attrice per cui io fui arrapato no ecco bella donna ma anche se non è il mio tipo bella top qui al top del suo splendore come un animo retti in calore con isabella ferrari no ma che ci faceva un anni accompagnata questa qui questa è un'altra bionda quella la direttrice piena di siccina dario argento e voglio i biancasi argento durante la prima di un euro sotel e la figlia di celentano come me pelata stempiata ben rasata cosa come dice quello ecco questo invece la depilata questa è solo una ecco abbastanza anche lei slanciata dal fisico prorrompente e non rompete più grande più trofona is a rider prendiamo la vita con libertà e lo so voi donne volevate essere volete se no no adesso no perché c'è questa causa nei panni di ambrard voi uomini ecco voi uomini diventa hard duro vedendo che fine ha fatto fra l'altro ed è il parisi no parisi cicale 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 ed è il gran formella della storia di jack lo squartatore però un bonbon molto bon e cion cion pep come stai e lui entrambi ovidi da vicino molto vicino strinsi la mano a voi no voi siete uomini corrotti sporchi luridi non arriverete mai a niente dice bobby de nero gli intoccabili perché anche max caddy che fia non vi impegnate fra di voi ci vuole un gioco di squadra e baseball poi non impazzite però come grenardi di fa gli occhi neri bella bella impossibile questo non è tanto bello però la nobile donna e il duc di aoi com'è che fu omaggiato questo invece con gli occhi neri e tuo sapore medio orientale vedete già all'epoca era un bel uomo infatti questo mi guardò con ammirazione sta guardando da un'altra parte con l'occhi così che quando vede messo spaventato disse oh madonna è però una bella donna questa complimenti molto sexy che charme che allio che sorbo a ferro guardate è francese questa attrice o comunque sapete vedete che cosa che fisica duol donne con le donne donne con il fulano donne che salgono fra l'estero scendono alle scale e che passeggiano molto molto lentamente mi dice Ernest Massenegger in true life post libertà nascoste Jamie Lee Curtis sarà leone d'ora la carriera se però adesso spoglietti molto molto lentamente sono un uomo duro amante anche del cinema di Ken Lodge un cinema grezzo di operai di schizofrenici family life storie dure di vita vissuta di traumi subiti di avventure di avventure che non finiranno mai è uscito il mio articolo su paolo sorrentino è il più grande regista contemporaneo vivente non lo so ve lo metto in descrizione su da roma inviato anche per ciao cinema sto aspettando il libro di Fabio Fabio Zanello dopo quello su Brande Palma su Paul Broven a proposito di Don e Sharon Stone che fu diretta anche in un cameo del New Pope si Abemus Papam a proposito di Nanni Moretti e io sono splendido splendente sempre piacente avvenente sempre intellettualmente più avanti di voi perché ho assunto l'NZT come Bradley Cooper di Limitless non lo sapevate? io so quello che pensate conosco i vostri retropensieri ma voi non conoscete me la mia anima il mio passato che sta riemergendo dalle profondità ero nessuno sono un Dio Nettuno e su questa stronzata vi lascio e ci vediamo presto tutti assieme tiferemo per Diun Diun il deserto David Lynch è un uomo delirante faloticante a volte cazzeggente a volte pensieroso un grande amante non solo del cinema